Ciao, sono Fabio Troi di Cambio Networks. Stai cercando di offrire esperienze Wi-Fi differenziate ai tuoi clienti Enterprise, fornendo anche servizi a banda larga, altamente competitivi in termini di costi? Allora la nostra One Network per Enterprise può soddisfare le tue esigenze aziendali e aiutarti a risolvere le sfide attuali. Contattami per organizzare un incontro al Mobile World Congress dal 27 febbraio al 2 marzo. Ci vediamo a Barcellona allora. A presto! A presto!